Padre Mauro, al Meeting 2023 l'esistenza umana è un'amicizia inesauribile, un incontro su Tagashi Nagai. Perché è importante questa figura in questo contesto? Dire il vero l'incontro è su Tagashi Nagai e sua moglie Midori e quindi è un incontro importante perché Tagashi ha capito cos'è la vera amicizia in Cristo grazie a sua moglie, cioè vedendo come sua moglie ha vissuto con lui un'amicizia di una gratività infinita che l'ha portato alla fede e l'ha portato anche a interpretare la tragedia, il disastro totale della bomba atomica in un senso sacrificale, cioè che era un'offerta che Dio chiedeva a Nagasaki per fermare la guerra e quindi per ristabilire l'amicizia nel mondo e per questo è importante, proprio perché di fronte ad ogni distruzione che sperimentiamo nella società, nella cultura, eccetera, mostra come c'è un'amicizia originata dall'amicizia di Dio con l'uomo che sempre fa risorgere la vita e la comunione fra gli uomini. Il meeting da oltre 40 anni mette al centro della manifestazione l'amicizia, quest'anno è anche nel titolo. Posso chiedere chi è per Mauro Giuseppe Lepori un amico? Quasi quasi non riuscirei a definirlo, però è sempre qualcuno che mi ha sorpreso per una gratività di sguardo su di me che mi ha guardato in modo gratuito e vedendo in me me stesso e non quello che magari voglio mostrare o quello che voglio valere, ecco c'è sempre una gratuità e sempre qualcuno che mi è stato fedele e che mi ha chiesto fedeltà in un cammino, in un cammino verso la pienezza della mia e della sua vita e della vita di tutti.